Sì, con l'uomo decisivo Simi ci ritroviamo dopo il match d'andata. Era un periodo diverso, il tecnico che salutava in quella sfida. La vostra formazione l'ha ritrovata e credo anche con uno spirito propositivo, non a caso, il successo in trasferta quest'oggi. Sì, è stata ancora una partita difficile come quella d'andata. Oggi siamo stati bravi noi, perché Salonitana è una squadra difficile in casa da affrontare. Abbiamo fatto una gara molto attenziosa, con la testa giusta, sapendo che prima o poi avremo la nostra occasione. Quindi credo che abbiamo fatto un'ottima prestazione e oggi abbiamo portato a casa Punticchi, perché è importante per noi. Una domanda a testa da studio, così poi abbiamo anche Angelo Gregucci. Iniziamo con Luca, vai Luca. Simi, allora si è sbloccato finalmente. Una squadra che non segnava il clotone da più di 380 minuti, sei venuto alla Rega, invece hai fatto due gol e il primo è bellissimo. Ce lo vuoi raccontare? No, questo è calcio. C'è un momento in cui la cosa va bene, c'è un momento in cui non va. L'importante è avere sempre la testa giusta, lavorare in un modo giusto, cercando di mettere a disposizione la squadra. Il gol arriva sempre. Per un attaccante che lavora, che è positivo, perché chi cerca di fare la cosa in un modo giusto arriva sempre a fare il gol. Io sono a disposizione della mia squadra, quella che è passata è passata. Adesso proviamo ad andare avanti con sorriso e con fiducia. Buonasera Simi, sarò brevissimo. Cosa è successo nel girone d'andata a questo crotone per essere lì in fondo alla classifica con 17 punti? Adesso due vittorie nelle ultime tre partite, però pagate un girone d'andata terribile. Cosa è successo a questa squadra dopo la retrocessione dell'anno scorso? Non lo so, non posso spiegare. Fa parte del calcio. Secondo me fa parte della nostra crescita, della transizione da Serie A a Serie B. È stata un girone d'andata molto difficile, ma adesso non pensiamo più a quello che è stato. Adesso andiamo avanti a cercare di raggiungere il nostro obiettivo che è Salvesa.